La situazione è molto semplice, c'è stata una rottura della condotta sorical, una rottura particolarmente gravosa e complicata, in una situazione impervia dove è difficile intervenire. Noi ci siamo attivati subito per seguire quello che accadeva, per richiedere le autobotti, per sollecitare la più rapida conclusione possibile e la riparazione è stata ultimata oggi intorno alle 15.10 e se non succede niente, salvo imprevisti, la situazione ritornerà a normalità domani mattina. Resta un dato che i cittadini catanzaresi non ce la fanno più, hanno continuamente problemi con l'acqua, questa è, forse perdonatemi l'ironia, la goccia che fa traboccare il vaso, perché i cittadini sono arrabbiati e io sono arrabbiato. Non è più possibile che Catanzaro sia in queste condizioni. Noi dipendiamo sostanzialmente da una condotta fatiscente che per chilometri e chilometri attraversa le montagne, che è soggetto a rotture continue, che in qualche modo dipende dal fatto se si rompe, dove si rompe, quando si rompe, sappiamo solo che si romperà, perché queste rotture sono inevitabili stante la situazione. Allora noi siamo ostaggio di una situazione che va assolutamente risolta, perché non è più possibile che un capoluogo di regione dipenda da una situazione di questo tipo. So che non è facile, so che ci vogliono risorse, so che non sarà domani, ma tutte le istituzioni devono assumere responsabilmente questo problema perché così non si può continuare. Io parlo sempre con Sorical, stiamo gestendo insieme l'emergenza, ma non è una questione che può essere sempre affrontata in maniera emergenziale. Non è, noi li ringraziamo per averci mandato gli autobotti, ma non è un autobotti in più o in meno che risolve il problema, come ringraziamo la protezione civile regionale. Non è la questione se riusciamo a ripararli in tre ore, in cinque ore. La questione è che non possiamo vivere in questo modo, in cui un diritto fondamentale, qual è quello dell'acqua, dipende sostanzialmente dalla fortuna allo sfortuna, da quello che accade in un giorno. Noi abbiamo diritto a una condotta moderna, efficiente, messa a posto, abbiamo diritto ad avere l'acqua sempre, non quando riusciamo a riparare la condotta. A me sembra che se servono grandi risorse per il Sud, prima vengono i diritti essenziali e poi vengono le opere infrastrutturali che verranno disegnate su qualche libro da portare in giro. L'acqua è un bene essenziale, fino a quando non avremo l'acqua non so come si faccia pensare l'altro. Guarda, non li definirai dei ritardi, definiamoli per ora delle incomprensioni, nel senso che con Sorica l'avevamo chiesto questo sforzo ulteriore, io stamattina mi sono precipitato in attesa della squadra che è arrivata un po' più tardi. È ovvio che si sarebbe potuto recuperare qualche ora, è anche vero che subito dopo questa incomprensione le squadre hanno lavorato con maggiore velocità e con maggior efficacia, quindi credo che alla fine abbiano recuperato. Ripeto, sono quegli accadimenti che servono per fare le cose meglio dopo. Non è la prima volta che parliamo di questo argomento, devo dire ne ha parlato anche prima di me l'assessore Scalise che conosce bene anche l'argomento proprio dal punto di vista degli interventi da realizzare. Lo sa Sorica, lo sa la Regione, lo sanno tutti quali sono le zone a maggior rischio. È inutile tediarvi con le parti tecniche, nel senso che ci sono delle zone dove ci sono maggiore pressione, dove il tubo è più consumato e quelle zone è una questione molto tecnica, si possono conoscere, ci si può intervenire. Ora succede che a brevissimo faremo un incontro per mettere a terra tutte le cose che in queste ore sono venute fuori. Due chilometri e mezzo di condotta, questo è più o meno il numero ammalorata o meglio che presenta delle criticità, noi dobbiamo capire chi, quando e come interverrà. In questo momento sono state completate le operazioni di riparazione del tubo che è esploso, per chiarezza. Le operazioni prevedono degli altri interventi di messa in sicurezza della tubazione, per evitare vibrazioni, per evitare eventuali altre rotture. L'acqua è stata mandata nel tubo alle 15.10, da qui, dalle 15.10 a due ore, due ore e mezzo, quindi diciamo per le 17, 17.30, noi dovremmo vedere nei nostri serbatoi in entrata, serbatoi che sono informatizzati e non li ha informatizzati fiorita, quindi cose fatte in precedenza bene e quindi appena noi entra l'acqua, da quel momento parte il countdown del riempimento dei serbatoi. Matematicamente per domattina i serbatoi saranno pieni, saranno pronti ad erogare l'acqua nella normalità, ma se ci saranno delle criticità saremo pronti e immediatamente rappresenteremo la cittadinanza la problematica che speriamo non si verifichi.